Primo giorno di dieta plank, benvenuti in questa nuova avventura. Ecco, io in questi brevi video che vi farò descriverò tutto ciò che potete mangiare e piano piano vi mostrerò anche qualche metodo per rendere più appetibili i cibi che utilizziamo. Iniziamo dal caffè. Il primo giorno per colazione abbiamo il caffè amaro. Ovviamente meno caffè si assume e tanto meglio è. Quindi noi che siamo italiani abbiamo l'usanza di bere caffè corto, chiamiamolo così, potremmo almeno per questo periodo utilizzare i classici beveroni americani e quindi utilizzare questi e farceli durare tutta la giornata. Per pranzo abbiamo spinaci a volontà. Ovviamente non ci devono essere condimenti. Al massimo potete utilizzare del limone e ovviamente nell'utilizzo del limone sugli spinaci è bene che gli spinaci siano stati raffreddati. Due uova. Quindi in questo caso o potete fare una frittata di spinaci ovviamente al forno e senza olio e senza formaggi oppure se gradite potete sostituire con 80 grammi per uovo quindi 160 grammi di tonno. È un'ottima alternativa anche perché mangiare tante uova effettivamente non fa bene. Per cena prosciutto cotto a volontà. Solo prosciutto cotto. Iniziamo così e vi auguro una buona giornata. È un buon inizio di dieta. Secondo giorno di dieta plank. Per colazione un caffè amaro e due fette di pan baoletto. Non oltre 50 grammi come peso complessivo. Per pranzo una bistecca grande, insalata a volontà e frutta a volontà. Per quanto riguarda i condimenti parliamo sempre di condimenti di base. Limone e spezie. Cena. Fese di tacchino a volontà. Terzo giorno di dieta plank. Per colazione abbiamo sempre il nostro caffè amaro e due fette di pan baoletto massimo 50 grammi. Ovviamente potete sostituirlo con del pane integrale. A pranzo abbiamo due uova insalata a volontà e pomodori a volontà. Per quanto riguarda il pranzo le due uova possono essere sostituite con del tonno. Ovviamente al naturale è considerate 80 grammi di tonno per ogni uovo. Nella cena invece abbiamo prosciutto cotto e insalata a volontà. Quarto giorno di dieta plank. Per colazione un caffè amaro e sempre le nostre due solite fette di pan baoletto. A pranzo abbiamo un uovo carote a volontà crude o ponte non fa niente e del formaggio svizzero. Per cena yogurt greco e frutta a volontà. Va benissimo realizzare anche un frullato. Quinto giorno di dieta plank. Per colazione abbiamo una tisana al limone e un caffè amaro. Per pranzo pesce e pomodori a volontà. Per cena invece abbiamo un salata a volontà e una bistecca alla greglia. Sesto giorno di dieta plank. Per colazione abbiamo un tè al limone. A pranzo polla alla greglia a volontà. Cena tutto ciò che si desidera. È un consiglio personale esagerate. Settimo giorno di dieta plank. Eccoci arrivati alla fine del primo dei due cicli della dieta plank. Questo vuol dire che da domani ripartirete dal primo giorno. Mi auguro per voi che abbiate iniziato la dieta da lunedì poiché ovviamente essendo che il giorno libero è il sabato il sabato sera potete divertirvi quanto volete. Per colazione abbiamo un tè al limone. A pranzo abbiamo una bistecca grande, frutta a volontà e per cena due uova e carote a volontà.